Un progetto di educazione finanziaria rivolta alle piccole imprese, realizzato in collaborazione con tante associazioni. Lo ha lanciato la Banca d'Italia e ha il titolo Scelte Finanziarie e Rapporti con le Banche. L'iniziativa è stata illustrata dal direttore della filiale regionale che coordina il progetto per l'Abruzzo, Giovanni Giuseppe Ortolani, assieme alla direttrice di filiale di Pescara, Violetta De Luca. La Banca d'Italia è molto attiva nel campo dell'educazione finanziaria, nei confronti dei giovani, ma anche degli adulti. Si avvia questo progetto che entra pienamente a regime quest'anno di educazione finanziaria delle piccole imprese al fine di renderle maggiormente consapevoli nelle proprie decisioni in ambito finanziario, renderle autonome e fronteggiare anche meglio questa situazione attuale di restrizione creditizia che rende più difficile l'accesso al credito. Ci saranno vari moduli formativi e le filiali di L'Aquila e Pescara daranno ampio supporto alle associazioni di categoria che faranno da formatori in questo campo e questi formatori saranno precedentemente formati dalla Banca d'Italia. Le associazioni che collaborano sono Confartigianato, CNA, Confindustria, Confcommercio, Union Camere e Camere di Commercio, CIA, Copagri e Confesercenti. Il programma di formazione sarà suddiviso in quattro percorsi, il rapporto con la Banca, la gestione delle difficoltà finanziarie, la centrale dei rischi, pagamento e strumenti di tutela, la finanza per la piccola impresa e saranno usati vari strumenti didattici. Il percorso si concluderà a luglio del 2024 e la Banca sarà sempre da supporto con l'organizzazione di eventi congiunti con gli imprenditori e offrendo comunque supporto alla didattica mettendo a disposizione anche le proprie sedi.